46 milioni nel biennio 2024-2025 e quanto investirà Estra attraverso la controllata Centria, società di distribuzione del gruppo, per incrementare la diffusione del biometano. Il metano arriva attraverso la nuova rete di Centria, la società di distribuzione di Estra nel comune aretino di Caprese Michelangelo è stata finalmente superata l'alimentazione con i carri bombolaio. Estra sostiene la campagna bolletta sospesa della diocesi di Prato, l'iniziativa ormai in funzione da più di un anno è pensata per aiutare le famiglie in difficoltà a pagare le utenze domestiche. Pistoia Basket ed Estra ancora insieme, è iniziata la stagione per la società biancorossa, la formazione pistoiese che associa il suo nome alla multiutility per un altro prestigioso campionato di A1. Grazie a tutti!